amici di atti sport 24 benvenuti ad una nuova puntata di due metri la pallannuto vista da vicino abbiamo il piacere di avere oggi con noi il difensore della rarinantes salerno carlos angeles ciao carlo benvenuto grazie per aver accettato il nostro invito ciao ciao a tutti e grazie a te per l'invito carlo partiamo da quella che è stata la notizia di settimana scorsa la società ha deciso di rinnovare il contratto di matteo citro prolungandolo per altri tre anni quanto è importante per la crescita del progetto rarinantes salerno la permanenza del mister ma sicuramente è stata una conferma importante anche perché questo è un progetto iniziato ormai quasi cinque anni fa con lui e dato che comunque sono stati raggiunti risultati molto importanti era giusto mantenere questa questa linea guida diciamo che è lui che è stato il mentre di tutto questo con lui abbiamo avuto molte soddisfazioni a partire dalla promozione in a1 eh sino alla eh salvezza di quest'anno che possiamo passare nel giro di elite e anche l'anno scorso prima che si fermasse il campionato a caso della pandemia comunque da ne ho promosso eravamo riusciti a dire la nostra anche su su campi importanti quindi secondo me è stato giusto continuare così senza muovere troppe carte in tavola torniamo invece a quello che è stato l'ultimo verdetto del campo quanto aumenta la consapevolezza nei vostri mezzi il pari ottenuto nel match della vitale contro l'ortigia nella vostra ultima uscita in campionato un guarda sicuramente ha alzato molto l'autostima perché comunque venivamo da partite difficili impegnative perché eh essendo entrati in questo girone di elite comunque si alzava di molto eh il livello delle squadre con cui ti andavi a confrontare eh ero un momento difficile anche perché più che altro sbagliavamo l'approccio alle partite perché in alcune ci sono state due o tre occasioni che eh partivamo sempre con un gap di tre quattro reti a zero e quindi pure che si giocava bene era poi difficile eh rimontare la partita e cercare di riprenderla eh c'eravamo detti che eh siamo quasi agli sgocci del campionato e ce l'avamo detti che appunto questa era una delle ultime occasioni per cercare di far vedere il nostro vero valore ma più che altro siamo fatti forza perché forse era l'ultima partita che giocavamo in casa e quindi anche se senza pubblico ci tenevamo a fare bella figura eh però ti dico la verità per come si era messa la partita resta anche un po' eh di amare a bocca eh sì perché c'era anche eh un certo punto che ci trovavamo due tre reti avanti contro una signora squadra e quindi sono stati sicuramente bravi loro a recuperare però diciamo che eh è un buon risultato però poteva starci la ciliegina sulla torta. Quali sono a tuo avviso gli aspetti del gioco su cui la squadra può ancora registrare margini di miglioramento significativi? Guarda noi siamo una squadra che eh è un misto tra gente esperta e giovani eh perché la maggior parte di noi eh prima della promozione non aveva alcuna esperienza nella massima serie. E quindi diciamo questo connubio far sì che eh secondo me non è che ci sia un solo margine ma si può lavorare su più fronti. Diciamo che quello che ci ha caratterizzato fino ad ora è una buona difesa e poi abbiamo cercato di fare il nostro lavoro in attacco. Ma secondo me non c'è solo come ripeto non c'è solo un margine su cui poter lavorare ma eh possiamo andare ad alzare l'asticella in tutti eh le zone del campo in tutti i settori che sia attacco, difesa perché abbiamo diciamo il modo per di per poterlo fare. Se devi andare a tracciare un primo bilancio stagionale ricordiamo che mancano due match al termine del vostro torneo e che affronterete entrambi in trasferta. Che tipo di giudizio dai sul percorso fatto quest'anno dall'area di Nantes e Salerno? Guarda eh quest'anno è stato un anno veramente molto molto duro eh sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista soprattutto secondo me mentale perché ritornare a fare allenamento dopo tre quattro mesi di stop è stato veramente proprio difficile riprendere l'approccio proprio con con l'acqua fisicamente diciamo eh eravamo tutti eh abbastanza pesanti anche perché nessuno di noi era impegnato nei collegiali con la nazionale quindi per quanto abbiamo potuto fare allenamento diciamo per fatti nostri sicuramente non avevamo la stessa forma che avevamo a febbraio quando si è interrotto il campionato oppure che abbiamo normalmente quando ricominciamo gli allenamenti ad agosto quindi è stato molto difficile proprio per questo però ehm è stato un anno veramente diciamo se posso dire quasi un anno zero perché si sono venute a creare alcune dinamiche che non si erano mai viste prima eh ad esempio ah il stesso il fatto che eh si è cambiato un il il modo del campionato si va a giocare ogni quindici giorni quindi si perde quella stabilità mentale che avevi eh negli altri campionati in cui giocando ogni sabato mentalmente ripronto mentre qua è come si deve andare a recuperare un attimo quella concentrazione eh che invece deve su sì deve starci sempre il sabato e stesso il fatto di giocare a porte chiuse e in un campo caldo come quello di Salerno sicuramente non è eh la stessa cosa e poi si vengono a creare si vengono a creare delle difficoltà come ad esempio è successo alcune volte come ad esempio l'ultima volta per farti un esempio con il Brescia che tu preparavi la partita fino al giovedì e poi il venerdì quando usciva l'esito dei tamponi sapevi che rinviata esattamente veniva rinviata la partita non giocavi più e quindi eh eh ti ti sentivi come se tanta fatica poi andava persa esattamente e quindi è stato un anno secondo me difficile da reggere proprio mentalmente eh però mh come detto anche tu siamo arrivati agli sgoccioli siamo stati comunque bravi a raggiungere eh la salvezza nella prima parte del campionato e quindi campionato che di per sé c'era iniziato difficile perché in questi mini gironi che hanno che sono andati a formare avevamo il recco su tre squadre quindi diciamo che era due esattamente al 90 per cento sei punti eh già eh l'avevi perso e quindi era un girone che si eh formava su due partite su otto tempi e siamo stati bravi a a fare la prima partita in casa in maniera egregio e poi siamo stati bravi e allo stesso tempo a mantenere quel distacco fuori casa dove è stata veramente una battaglia anche perché il quinto è veramente una squadra che che non muore mai e anche quando sembra che l'hai domata caccia sempre sai un po' la testa fuori e non molla mai quindi è stato veramente difficile e poi questo secondo girone che il girone d'elite dove praticamente siamo confrontati con squadre eh di livello più alto eh secondo me eh anche cioè no secondo me più attrezzate di noi però comunque eh le partite iniziano tutte zero a zero e noi possiamo dire la nostra eh con tutti adesso ci aspettano due trasferte quella di Brescia e l'ultima a Savona dove però sicuramente non dobbiamo partire con la mentalità che è finito il campionato ma comunque dobbiamo dimostrare che se stiamo là e abbiamo superato il giro non è un caso assolutamente proprio eh riprendo la parte finale della tua risposta venerdì la trasferta eh di Monpiano contro la N Brescia quella che insieme a Recco è la corazzata destinata ad arrivare in finale in questo campionato che partita sarà sicuramente sarà una partita molto molto dura perché parte il fatto che già giocare contro di loro è dura a prescindere poi vai lì eh in casa loro eh dopo queste partite di Champions dove forse hanno pure un motivo di rivalsa in più perché non sono andate forse come loro si aspettava e e quindi diciamo che hanno molta molta fame di far vedere il loro vero valore e si troveranno di fronte noi però noi comunque non partiamo per niente sconfitti ma anzi eh secondo me è sempre eh stimolante giocare contro queste squadre per eh per cercare anche di di imparare qualcosa eh confrontarti con con gente che ha eh un know how e un palmarès incredibile e quindi secondo me già andare là a giocarsi di queste partite è qualcosa di fondamentale che può aiutare un processo di crescita e proprio con questo voglio chiudere la nostra chiacchierata come eh dovete affrontare perché giustamente non avendo più obiettivi imminenti da raggiungere potrebbe anche subentrare inconsciamente una forma di rilassamento come vanno affrontate queste ultime due partite per far sì che il percorso di di crescita intrapreso come hai detto tu all'inizio dell'intervista cinque anni fa possa continuare guarda forse non abbiamo più obiettivi come detto tu ma a livello di campionato però c'è sempre l'obiettivo della crescita della squadra e secondo me non bisogna pensare a quello che abbiamo fatto fino ad ora bisogna andare là come se questo fosse un campionato normale e dobbiamo andarci dobbiamo andare lì a giocarci la partita eh contro una signora squadra eh senza però ehm aver paura di nulla e quindi dobbiamo andare là eh giocare al meglio delle nostre possibilità al meglio della nostra circostanza e cercare di di ben figurare anche perché se andiamo lì eh pensando che eh siamo agli scocci del campionato e non abbiamo più obiettivi si 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 rischia di eh di fare una brutta figura e quindi eh tutto quello fatto finora può può andare perso anche perché molte volte si ricordano sempre le cose più recenti e non quello fatto in passato e quindi eh vai là e e butti tutto quello che hai fatto fino a tu tutto il giorno di buono che hai fatto fino a tu va bene siamo giunti come abbiamo visto nella partita nella partita in casa assolutamente abbiamo la possibilità di di dire la nostra certo va bene siamo giunti al termine della nostra chiacchierata ringrazio Carlo Sanchez per essere stato in nostra compagnia do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao Carlo grazie ciao a tutti e grazie a te grazie a te